Musica Ben trovati a questa puntata di Economi FWG, puntata in diretta in questo orario del pomeriggio perché ritorniamo a parlare oggi dell'OPA di Sparcasse su Civibank, a fronte anche di quella che è stata ieri una giornata molto importante, sono arrivati nuovi dati sulle adesioni e Sparcasse ha raggiunto la quota del 40% tra quelle che sono state le adesioni, le preadesioni e quella che era già la quota del 17% in possesso della cassa di risparmio di Bolzano. Si avvicina dunque la soglia del 45% affinché l'OPA abbia successo, lo ricordiamo sarà possibile aderire fino al 6 maggio. Parliamo oggi di nuovo con i vertici di Sparcasse che sono tornati a trovarci in studio e lo facciamo perché vogliamo sottoporre loro le domande, le domande dei nostri telespettatori, dei soci, dei clienti di Civibank che in questi giorni si stanno chiedendo che cosa devono fare con le loro azioni. Lo vedete c'è in sovrimpressione il nostro numero whatsapp 345 99 56 897, vi invitiamo a mandare messaggi ed sms, li presento subito gli ospiti ai quali potrete porre le vostre domande. Grazie al presidente di Sparcasse Gerhard Brandstetter per essere tornato a trovarci. Grazie a voi per l'invito e saluti a tutti i telespettatori. E grazie anche all'amministratore delegato di Sparcasse Nicola Calabrò. Grazie anche da parte mia e un saluto ai telespettatori. Allora sappiamo che siete qui in Friuli proprio per fare degli incontri anche con i soci di Civibank in questa importante operazione che è stata messa in piedi. Noi alcune domande le abbiamo già raccolte attraverso il nostro numero, attraverso i nostri canali social e tante sono le questioni che vi vogliamo sottoporre. Io partirei subito dal presidente Brandstetter per chiedere una domanda un po' tecnica. Quanto tempo c'è ancora per aderire all'OPA? Ci sono 10 giorni lavorativi. Di fatto, ecco, come si può ancora aderire a quest'OPA fino a 6 maggio? Ma i tempi li ha già indicati lei, 6 maggio. Bisogna recarsi in filiale, proprio consulente, gestore, e aderire all'OPA, servire le proprie azioni in OPA e dare il proprio voto sia per l'assemblea dei warrant, cosa molto importante, sia per l'assemblea delle liste del consiglio di amministrazione. Pensiamo di aver fatto una proposta, come abbiamo già detto giorni fa, del Friuli per il Friuli. Valgono i fatti, non le parole. Abbiamo presentato una lista fortemente radicata in Friuli, di alta qualità, di alta competenza. Quindi riteniamo che sia una squadra che possa condurre Civibank in un futuro prospettico molto positivo per il territorio, per i clienti e per i dipendenti. Per l'amministratore Calabro, in tanti ci scrivono un po' preoccupati perché dicono ma questa in fin dei conti è una fusione o no? Ecco, voi avete sostenuto che questa non è una fusione. Perché non si tratta di fusione? Che cos'è tecnicamente? Non è una fusione perché se avessimo fatto una fusione, le regole del gioco sono molto chiare, quando un soggetto che lancia un'offerta pubblica d'acquisto ha come obiettivo la fusione, lo deve dichiarare. Noi fin dall'inizio abbiamo detto chiaramente questo aspetto, il nostro obiettivo è quello invece di avere una società a cui noi assicureremo il fatto di avere un azionista di riferimento, quindi Civibank potrà beneficiare del fatto che entrando nell'orbita di sparcasse. Ha un elemento di stabilità che si crea ed è nuovo ed è un elemento che impedisce oggi a Civibank di essere una società con un punto di riferimento stabile perché dopo la trasformazione da popolare SPA è ovvio che è diventata una società che potrebbe essere anche preda di altri appetiti. Quindi, ripeto, non abbiamo in testa di voler fare una fusione, altrimenti l'avremmo detto. Abbiamo anche dichiarato in più occasioni che noi lanciamo un'offerta pubblica totalitaria al 100% perché vogliamo offrire a tutti l'opportunità di valutare la nostra proposta, ma se ci saranno degli azionisti che rimarranno anche magari con delle poche azioni perché per carattere affettivo vogliono conservare una minima parte, a noi va bene perché il nostro obiettivo è di avere una società controllata in modo tale da poterla gestire nel modo migliore e quindi, lo ripeto, il nostro obiettivo è riuscire a unire le forze di Civibank con quelle di sparcasse con un'operazione che non toglie l'identità. Siamo molto orgogliosi di poter contribuire in futuro a far sì che Civibank possa addirittura crescere, svilupparsi, dare migliori servizi ai clienti e crediamo che questo fattore possa essere sviluppato meglio se non si fa una fusione, ma se si mantiene lo status giuridico di Civibank di oggi. Cominciamo a leggere anche qualche messaggio. Ho acquistato le azioni, Civibank ha un prezzo molto più alto di quello offerto da sparcasse. Perché queste azioni si sono svalutate così tanto, Presidente? Ma guardi, bisogna seguire il mercato degli ultimi vent'anni. Abbiamo avuto la crisi petrolifera negli anni 90, la crisi del debito sovrano nel 2011, poi le crisi pandemiche, adesso inoltre la drammatica e triste guerra nel cuore dell'Europa, quindi ovviamente un comparto che ha particolarmente sofferto quello bancario. Le banche oggi non vengono valutate e trattate sul valore patrimoniale, ma da un 0,40 a un 0,60 più o meno. Basta vedere il listino delle borse bancarie e si vede qual è il prezzo che il mercato paga oggi in un momento di congiuntura difficile, di interessi praticamente a tassi zero, dove le banche hanno un piccolissimo spread per operare. Quindi è un comparto che soffre da un po' di anni. Quindi non è solo un problema di Civibank, basta pensare alle grosse banche sistemiche, vedere i loro valori, i loro listini, e quindi si nota qual è il prezzo del prodotto bancario oggi. Però noi abbiamo fatto una perizia molto accurata che ci ha indicato il prezzo giusto che si può offrire, anzi è diciamo già la forchetta alta della stima che abbiamo, che sono 6,50 euro più lo 0,55 per i vecchi azionisti come premio Warren si arriva a 7,05, è un prezzo che è nettamente al di sopra del prezzo medio che quotava Civibank sulla IMTF e sul mercato dove è quotata, è nettamente superiore al prezzo di stima della stessa Civibank. L'anno scorso in sede di recesso è stato stimato, se ben ricordo, 5,27 euro, quindi quello che si offre è un signor prezzo e credo che la valutazione degli azionisti è quella dopo anni di illiquidità che l'azione era bloccata e ferma, abbiamo avuto tanti azionisti che ci hanno detto che per anni non riuscivano a vendere le azioni, adesso c'è questa opportunità portando a casa un più 23-24% rispetto a quello che l'azione quota mediamente negli ultimi anni. Certamente non si recupera il prezzo di carico di tanti anni fa, però questo è purtroppo un libero mercato e se voi pensate i prezzi di altre imprese bancarie ma anche aziende, io ricordo sempre che ho avuto in regalo al diciottesimo compleanno delle azioni Fiat che poi hanno avuto il corso che hanno avuto e certamente non ho recuperato quello che era il prezzo al momento che mio padre me li ha regalate. Quindi Civibank è una banca che ha un buon futuro, una buona prospettiva, ma chiusisi i fari dell'OPA su Civibank penso che il prezzo tornerà al ribasso e sarà secondo me una nuova situazione di illiquidità. Quindi l'opportunità adesso di raccogliere un premio, diciamo un prezzo maggiore alla quotazione, dare un contributo a voltare pagina, dare un contributo affinché Civibank rimanga una banca forte, con prospettive positive al servizio del territorio, al servizio dei clienti con più prodotti, con più sinergie, con più prospettive e direi anche al servizio dei dipendenti che potranno contare su un gruppo nel nord-est forte con prospettive di lavoro sicure. Penso che sia un'operazione fortemente positiva per il territorio, per la gente e direi per tutto il nord-est. Ovviamente è un'operazione che dà delle garanzie anche a noi perché ci rafforza, ci consolida come casse risparmio, come banca regionale, ma ripeto è una prospettiva molto molto positiva per Civibank come banca per il futuro del Friuli. Calabro, ci scrive Luigi da Cividale, sono un vecchio socio della Popolare, ho speranza che possiate aumentare almeno un po' il prezzo che avete offerto per le mie azioni? Mi dispiace dover dire che purtroppo non è possibile, non è possibile perché come ha già precisato poco fa il Presidente Branstetter, nel momento in cui il nostro Consiglio di Amministrazione ha valutato l'operazione, noi ci siamo avvalsi di una consulenza come si fa normalmente in questi casi che ha confortato il Consiglio di Amministrazione rispetto alla decisione che doveva prendere in particolare per il prezzo che si sarebbe dovuto offrire. Il prezzo è un prezzo che nell'arco degli ultimi anni e mi riferisco in particolare al periodo che va dal 2017 al 2021, ha subito una forte contrazione che è pari al 63%, per un semplice fatto, non c'era una domanda di azioni, quindi non c'erano compratori interessati a comprare le azioni, quindi prevaleva l'offerta, ovvero le azioni che erano messe in vendita e questa che è una normale dinamica di mercato ha portato a questo brusco calo del prezzo dell'azione. L'azione poi si è stabilizzata a un certo punto in occasione delle operazioni straordinarie dell'anno scorso, che ricordo essere stato il recesso che è avvenuto durante il mese di aprile e che ha fatto sì che coloro che avevano voglia di uscire hanno avuto come corrispettivo offerto per poter recedere ed essere rimborsati delle loro azioni, come ricordava il Presidente, in quel momento il CDA di Civenc ha deciso che il prezzo congruo era quello di 5,28 euro. A questo aggiungiamo un ulteriore elemento che è un importante punto di riferimento, quando invece ad agosto si è trattato di far partire l'aumento di capitale il prezzo che veniva offerto ai nuovi investitori o agli investitori già esistenti era un prezzo di 5,27 euro. Ecco, questi sono i due punti di riferimento a cui bisogna guardare. Noi, come si fa sempre in queste operazioni, sappiamo che quando devi incentivare, incoraggiare le vendite devi offrire un premio. Il nostro premio è esattamente quello costruito a partire dallo status quo, che era l'anno scorso un prezzo medio di circa 5,27, 5,30 euro, abbiamo aggiunto un premio che rappresenta quell'elemento unico che viene offerto per fare un'operazione straordinaria, per invogliare il maggior numero possibile di azionisti a vendere, ma nel momento in cui si chiude l'operazione straordinaria viene meno l'esistenza di questo vantaggio che è offerto come incentivo alla vendita e si ritorna al prezzo di prima. Quindi la risposta è noi abbiamo fatto le nostre valutazioni, abbiamo pensato che 6,50 sia un prezzo corretto e ricordo che lo stesso CDA di Civibank che qualche tempo fa, esattamente il 7 di aprile, si è dovuto esprimere, ha espresso una valutazione propria del prezzo andando a dire che il prezzo sulla base dell'advisory che è stata fatta dal consulente incaricato dal CDA di Civibank per decidere se quel prezzo era congruo o non congruo, perché questa è la normativa che lo impone, il CDA della società target deve dire se il prezzo è congruo o non congruo. Il prezzo è definito congruo dal punto di vista tecnico finanziario, che vuol dire che conferma quelle che sono state fatte come valutazioni da parte nostra, tranne aggiungere degli elementi che possono essere congruo ma non è vantaggioso per gli azionisti perché non incorpora questo, non incorpora quest'altro, che sono opinioni, quindi noi per chiudere la risposta crediamo che il prezzo offerto sia assolutamente congruo. Grazie allora, stanno arrivando molti messaggi, vi invitiamo anche a mandarne ancora 345 99 56 897, noi ci fermiamo per un piccolo pauso pubblicitario tra poco. Di nuovo insieme con Economai e FWG nei nostri studi vertici di Sparcassa, Presidente, Amministratore Delegato, pronti a rispondere alle domande dei nostri telespettatori sull'OPA, sull'offerta lanciata appunto dalla Cassa di Risparmio di Bolzano su Civibank. Allora Presidente, un altro messaggio che ci arriva è questo, il documento di offerta descrive molti impegni fino al 2023. Dopo il 2023 chiedono, cosa ne sarà dell'autonomia di Civibank delle 200 persone che lavorano nella sede centrale? Ma pare che il prospetto informativo, ma anche tutto la nostra azione, le nostre comunicazioni sono state chiare. Andiamo avanti con una logica di gruppo, noi vogliamo creare un gruppo, non siamo una banca sistemica a livello nazionale che ha strutture e robe per magari aggregare altre banche. La prima operazione che facciamo è che è un'operazione di gruppo, quindi noi abbiamo bisogno dell'organizzazione Civibank sul territorio, abbiamo bisogno di Civibank sul territorio, i dipendenti sono una ricchezza, un capitale della banca e quindi noi vogliamo andare avanti in collaborazione, infragruppo, Sparacasse Civibank sul territorio anche friulano, anzi Civibank opererà anche sul confine diciamo ovest, quindi Veneto orientale e quindi c'è bisogno delle capacità, del know-how e della sede centrale di Civibank che dovrà servire il territorio da Civibank. Andiamo a toccare un tema particolare con quest'altro messaggio. Buon pomeriggio, cosa succede nell'assemblea dei portatori dei warranty il 29 aprile e cosa succede allo stesso tempo se non dovesse esserci riscontro positivo in tale circostanza? Lo chiedo a Calabro, è un tema quello dei warranty. Questo dei warranty è uno dei temi più importanti ma soprattutto urgenti. Noi abbiamo come abbiamo detto lanciato un'offerta pubblica d'acquisto sulle azioni e sui warrant. Per poter realizzare questo obiettivo noi abbiamo bisogno che quindi colui che si reca in filiale porti le azioni in adesione, porti i warrant in adesione ma non basta perché i warrant nel momento in cui sono stati assegnati agli azionisti vecchi erano uno strumento non trasferibile perché questo era il regolamento che ha fatto Civibank un anno fa quando ha assegnato questi warrant gratuitamente. Per poter essere consegnati in offerta pubblica d'acquisto i warrant c'è bisogno di cambiare questo regolamento e autorizzarne la trasferibilità. Pertanto è indispensabile che colui che si reca in filiale nel momento in cui fa le prime due cose di cui ho parlato aggiunga la volontà di partecipare all'assemblea dei warrant con la propria delega in modo tale che si raggiunga un quorum che è necessario perché questo regolamento che viene cambiato possa essere approvato. Purtroppo se non si arrivasse a questa situazione c'è il rischio che l'offerta pubblica che riguarda i warrant non si possa realizzare. Quindi invitiamo con il massimo dell'insistenza a far sì che quando uno va in banca non si limiti a consegnare azioni e warrant in OPA ma partecipi all'assemblea. Questa è una cosa importante. Il termine per fare questo è la giornata del 26 aprile e le prime ore del 27 quindi sarebbe meglio farlo entro il 26 aprile. Ci risulta che comunque Civibank si stia attrezzando visto che nelle ultime ore sta crescendo la domanda di prendere appuntamenti per fare delle aperture straordinarie dove penso che nelle prossime ore verrà data comunicazione in questo senso proprio per permettere al maggior numero possibile di azionisti di fare in tempo anche questa cosa che riguarda i warrant che ha come scadenza qualche giorno da oggi. Grazie Presidente. Quest'anno tornerà il dividendo che non vedevo da anni. Sparcast che politica dei dividendi adotterà visto che prevede un futuro di crescita per la banca? Siete in grado di garantire un dividendo a noi soci? Ovviamente la politica aziendale è quella di creare utile e quindi di proseguire una politica di dividendi. Noi stessi saremo, siamo azionisti di Civibank, abbiamo interesse di incassare un dividendo. Ovviamente bisogna vedere una politica prudenziale, una gestione sana e come ho detto prudente. Vedremo se in quanto avremo il controllo di Civibank quali adeguamenti bisogna fare o non fare, ma ovviamente l'obiettivo è fare utili e fare dividendi. Un altro messaggio è questo. Vorrei aderire all'OPA sulle azioni, ma non a quella sui warrant. Quanto potrò esercitare il diritto di acquistare nuove azioni e a che prezzo? Ci scrive Francesco Damonfalcone, amministratore delegato. All'OPA sui warrant secondo noi è una grandissima opportunità. È una grandissima opportunità perché dal punto di vista tecnico noi per esprimere il prezzo che avremmo offerto sui warrant abbiamo dovuto fare un calcolo finanziario che incorpora nel valore che abbiamo offerto quella che potrebbe essere l'anticipazione di un vantaggio economico che altrimenti colui che detiene i warrant potrebbe avere quando fra tre anni i warrant potrebbero essere esercitati. In altre parole, noi offriamo l'opportunità ai detentori di warrant che anziché aspettare tre anni, dover investire dei soldi per comprare delle azioni con un prezzo prefissato e sperare che fra tre anni questo acquisto si riveli essere un'operazione vantaggiosa, noi diciamo noi ti paghiamo subito un corrispettivo per i warrant che dal punto di vista dei nostri calcoli finanziari incorpora già subito il vantaggio. A questo abbiamo anche aggiunto un elemento in più che è il cosiddetto premio fedeltà che dovrebbe essere un ulteriore incoraggiamento a far sì che consegnando i warrant e rimanendo cliente attivo della banca per un periodo di due anni si possa avere non solo quello che sarebbe stato tecnicamente sufficiente per remunerare il titolare dei warrant ma un premio fedeltà che per noi è importante perché ci teniamo che i clienti rimangano clienti di Civbank e questo è il motivo per cui stiamo facendo questa operazione e quindi crediamo che in particolare l'offerta pubblica d'acquisto sui warrant sia di particolare vantaggio per gli azionisti di Civbank. Presidente Gianni da Cividale chiede se l'OPA avrà successo cosa ne sarà delle azioni non cedute ancora in mano ai vecchi azionisti? Questo è un tema importante pensiamo che finito come ho già detto il periodo OPA cioè quindi i riflettori si spegneranno sulla IMTF c'è poca domanda o scarsissima domanda e quindi si rischia di ripiombare in una situazione di illiquidità e l'azionista che non ha colto questa opportunità probabilmente si vedrà un prezzo anche per mancanza di interesse di scambio come è stato negli ultimi anni adesso è inutile ripercorrere il regolamento IMTF che prevede comunque una progressiva diminuzione di valore dell'azione se non c'è un certo scambio. Questo scambio dopo l'OPA pensiamo non ci sarà più e quindi sarà diciamo una situazione sicuramente sfavorevole per l'azionista che invece adesso ha l'opportunità di cogliere questo aumento di liquidità di questa offerta che Sparkasser offre. Dopo si ricadrà nel periodo riteniamo pre-OPA cioè illiquidità e prezzo in discesa. Altro messaggio questo un po' tecnico dice buongiorno vorrei sapere se è vero che un membro della lista che risulta perdente viene di diritto inserito nel nuovo CDA al posto di un membro della lista vincente se sì chi sarà l'escluso della vostra lista presentata? Calabro? Questo è quello che dice lo statuto di Civibank lo statuto di Civibank dice che qualora ci siano due liste ed effettivamente una lista sia la lista vincitrice e una seconda lista sia quella che dovrebbe portare almeno a una certa percentuale di voti per poter essere innanzitutto poi titolare di questo diritto qualora si verifichino queste condizioni effettivamente l'ultima posizione della nostra lista che in questo momento è occupata dal ragionier Silvano Chiappo dovrebbe essere la posizione che deve lasciare il posto a un membro della lista perdente. Quindi effettivamente si può avere questa situazione dipenderà comunque i giochi non sono ancora fatti da come si evolverà il quadro delle liste nelle prossime settimane. Ancora sui dipendenti, buon pomeriggio, quali garanzie per i dipendenti della serie di Civibank che sono in sovrapposizione con i colleghi di Sparcassa? In parte il Presidente aveva già risposto, ma Laura Daudine. Come lei ha detto abbiamo già risposto, ci sarà un'interazione molto proficua e pensiamo prospettica fra le due sedi centrali, c'è bisogno del know-how, della qualità del personale qui Cividale, noi non abbiamo la struttura di una banca sistemica che può sopportare diciamo due direzioni a Bolzano e a Cividale, quindi sicuramente la serie Cividale rimarrà, i posti di lavoro ci saranno e anzi ci sarà come pensiamo uno sviluppo per Cividale, per il Friuli perché riteniamo che Cividale possa avere un ruolo ancora più incisivo in Friuli e anche nel Veneto, diciamo nel Veneto orientale, quindi ci sarà un efficientamento normale diciamo di gruppo, però la prospettiva è sicurezza del posto di lavoro con più efficienza, con possibilità di sviluppo e possibilità di crescita. Giulio da Cividale, ma allora questo è l'ultimo treno per noi azionisti per riavere almeno in parte i nostri soldi Calabro? Effettivamente è così, l'ultimo treno soprattutto perché l'argomento su cui abbiamo insistito tanto anche oggi è l'argomento del potenziale rischio di tornare alle illiquidità. Per essere ancora più concreto, il tema della illiquidità non è qualcosa che abbiamo inventato noi perché vogliamo spaventare i potenziali azionisti a consegnare in OPA con delle cose che possono apparire come delle previsioni negative. Se uno andasse a leggere il documento che è stato presentato da Civid Bank stessa in occasione dell'aumento di capitale, che era un momento in cui Civid Bank doveva attrarre gli investitori per proporre di partecipare all'aumento di capitale. Una sezione importante di circa 10 pagine è dedicata al tema della illiquidità, cioè la Conso aveva previsto quando si è trattato di autorizzare l'operazione di aumento di capitale che venisse indicato in maniera la più chiara possibile il rischio che avrebbero corso gli azionisti partecipando all'aumento di capitale perché in quel momento la Conso, come è normale che si faccia in questi casi, raccomandava di essere molto attenti al tema del potenziale futuro rischio di liquidità che è quello che in maniera molto palese si era già verificato nei 5-6 anni precedenti. Quindi purtroppo la risposta è probabilmente l'ultimo treno. Ricordo anche che nel momento in cui la nostra operazione avrà successo come noi confidiamo, quello che rimarrà come numero di titoli in circolazione, quello che in gergo tecnico si chiama il flottante, sarà così ulteriormente diminuito rispetto all'attuale massa di azioni che sono teoricamente il 100% che potrebbero essere oggetto di negoziazioni, sarà ancora più ridotto e quindi l'illiquidità di domani sarà ancora più forte dell'illiquidità di ieri. Grazie, una domanda un po' particolare. Presidente, se andassi in Portolopa di Sparcassi, la sede avveniristica costruita a pochi metri del centro storico Unesco di Cividale del Friuli, rimarrà o sarà abbattuta o modificata? Ma non penso che questo sia un problema, questa struttura c'è, è una struttura sicuramente particolare, ma certamente non si crea valore abbattendo o cambiando, penso che questa sede c'è, è una sede interessante, poi sappiamo criticata o non criticata, non spetta a noi giudicarlo, c'è, è una sede che funziona e non pensiamo di creare perdite di valore intervenendo su una struttura che c'è già e quindi sarà, se necessario, adattata a esigenze o integrata con servizi tecnici eventualmente necessari o meno, però la sede c'è e rimarrà. Grazie, continuate a scrivere al nostro numero, continuate a mandare Whatsapp, ne stanno arrivando veramente tanti, noi ci fermiamo solo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. In compagnia di Economi FWG, grazie ai vertici di Sparcassi che sono in studio con noi, telespettatori, voi da casa potete mandarci delle domande, già tante ne abbiamo sottoposte al Presidente, all'amministratore delegato, proprio a Calabro faccio questa domanda che ci è arrivata adesso, perché non è stato previsto anche un concambio? L'OPA, a mio avviso, sarebbe stata più gradita e convincente. Ci abbiamo pensato, nel senso che quando si devono fare le riflessioni prima di decidere che operazione fare, è normale valutare entrambe le opzioni. Alla fine abbiamo deciso di privilegiare quella che secondo noi sarebbe stata l'opzione più semplice, perché abbiamo ritenuto che in questo caso specifico, l'elemento di presentare come opportunità quella di avere dei contanti in cambio delle proprie azioni, creasse la massima libertà. Nel caso dei concambi, l'esperienza che è stata fatta recentemente ha portato a identificare un problema. Nel momento in cui tu offri in concambio un'azione quotata sul listino principale, è chiaro che stai dando automaticamente a colui che decide di aderire a questa proposta un titolo facilmente liquidabile, che può anche equivalere dal punto di vista di liquidabilità ad ottenere i contanti. Siccome la nostra azione non è quotata, dico per il momento, sui listini principali, lo potrà essere magari se faremo riflessioni in questo senso in futuro, avremmo dato un'azione dove non potevamo garantire, anche per quanto riguarda il titolo sparcasse, una sufficiente liquidabilità, perché questo è un tema che tocca tutte le azioni sulla MTF. Quindi abbiamo pensato che l'operazione più giusta da proporre fosse quella di dare contanti. Poi uno che ha i contanti è libero, se questi contanti ritiene di reinvestirli, di reinvestire in altri strumenti finanziari, andare in banca a farsi consigliare dal proprio consulente per fare le scelte più opportune rispetto al proprio profilo di rischio e comprare qualsiasi cosa che si presenti sul mercato con la massima libertà. Ci chiedono, dato ormai per certo il raggiungimento del 45%, che possibilità ci sono che la Sparcast si lanci in futuro un'OPA totalitaria? Abbiamo dichiarato già che ci interessa il 45%, cioè un controllo di forte espressione azionaria, e quindi questo è un controllo di gruppo, basta e avanza. Se avessimo avuto come intenzione di fare una fusione saremmo andati oltre, ma ci basta questo controllo del 45%, che è un controllo forte, o se sarà qualcosina in più sarà in più, ma non abbiamo bisogno di altre azioni, anzi ci fa piacere poi condividere con anche un azionariato ancora che rimarrà a una banca di forte connotazione territoriale e regionale. Buongiorno, per ottenere migliori condizioni sul mutuo ho comprato azioni della Banca di Cividale, le quali all'epoca mi facevano tenere un buon risparmio sugli interessi, li ho sempre considerati come soldi persi ed ora in pratica è come se lo fossero. Per il valore attuale il riscatto non mi cambierà la vita, quindi sono propenso comunque a tenerle. Ci sono speranze per cui nel medio periodo riacquistino valore per almeno andare a pari, ma soprattutto abbiano un nuovo mercato, Calabro? Purtroppo no, dipende poi da quando sono state comprate queste azioni, perché ovviamente l'azione di Cibank si è svalutata progressivamente, gli azionisti storici che hanno le azioni da più anni, ovviamente sono quelli più penalizzati da questa dinamica, quelli che l'hanno comprata qualche anno fa meno. In ogni caso, quello che noi rispondiamo a questa specifica richiesta è quella di valutare, di tenere un pacchetto minimo di azioni che dà diritto al mantenimento delle condizioni agevolate, e per quello che può essere invece il pacchetto principale, di portarle in OPA in modo tale da monetizzare e avere questa possibilità di avere un prezzo di offerta pubblica che è superiore rispetto ai prezzi di mercato che c'erano prima. Ma se la banca crescerà come auspica a parcazzo il valore delle azioni, crescerà di conseguenza? I soci potranno usufruire dei dividendi? Gianni da Cividale? Sì, Presidente. Ma guardi, abbiamo già parlato del settore bancario che sicuramente è un settore che adesso sconta varie congiunture negative. Non pensiamo che il comparto bancario possa crescere molto nel medio termine. L'importante è gestire bene l'azienda, dare un servizio efficace al territorio, ai clienti. Un'azienda ben condotta potrà, se a livello mondiale la congiuntura migliorasse, quindi anche il comparto bancario si riprendesse, potrà crescere. Però stiamo parlando di un futuro incerto e di un settore bancario che non è certo una start-up con guadagni stratosferici. Quindi oggi c'è questa opportunità di realizzare e riteniamo che sia un'opportunità sicuramente unica per il prossimo futuro. Il nostro compito è di contribuire con il Consiglio di Amministrazione in esse e con tutti i dipendenti di gestire bene la banca, dare un buon servizio, quindi una buona azienda per il Friuli. Il resto lo vedremo. Una domanda possibile a quella di prima, a Calabrono. Non ho bisogno di liquidità, visto che prospettate una crescita di Civibank. Perché mai dovrei vendere le mie azioni? Chiede Lucia Daudine. Perché purtroppo la crescita di Civibank, intesa come crescita aziendale, non è correlata direttamente a quella che potrebbe essere l'evoluzione sull'azione. Mi spiego meglio. Le azioni quotate sull'AMTF non sono azioni dove, per esempio, di fronte dei risultati positivi, come succede per le azioni quotate sui listini principali, quando esce una trimestrale particolarmente positiva, normalmente i titoli quotati nelle borse reagiscono positivamente come effetto diretto e naturale di un buon andamento dell'azienda, qualsiasi sia il settore. Nel caso dell'AMTF non succede questo, perché anche di fronte a risultati positivi che esprime l'azienda, essendo l'AMTF un listino in cui non possono investire gli investitori professionali, mi riferisco ai fondi pensioni, ai fondi comuni di investimento, quindi quei soggetti che sarebbero capaci di creare una forte liquidità e quindi sarebbero capaci di creare un possibile apprezzamento dell'azione. Purtroppo l'AMTF, che è una piattaforma che la Consopera ha comandato venisse costituita nel 2017, è semplicemente un piccolo mercato regolamentato in cui però coloro che investono e coloro che vogliono vendere sono un numero molto ristretto e quindi il tema delle liquidità, che ripeto è comune a tutte le banche che sono quotate sull'AMTF, è un problema che non permette di avere quella correlazione positiva che vuol dire se l'azienda va bene l'azione cresce. Noi non avremo nessuna capacità di influenza fra l'altro in questo senso, perché sarà sempre il mercato che stabilirà il prezzo e se il mercato sarà un mercato di forte liquidità e di scambi rarefatti, purtroppo si rischia di avere una CIVIP anche che va bene, perché magari saremmo capaci di dare un contributo perché CIVIP anche vada meglio, ma un'AMTF che non potrà esprimere un riflesso diretto in questo senso. Presidente, se per ipotesi l'Opa non andasse a buon fine, quali sarebbero gli scenari? Se l'Opa non va a buon fine, decade l'offerta e quindi si torna a una situazione ante Opa, con un'azione illiquida, con un prezzo in caduta e con una banca senza una leadership, senza un azionariato di riferimento forte e determinante. Quindi non penso possa essere una buona prospettiva per la banca. Come abbiamo sentito da parte di tanti azionisti che in questi giorni abbiamo incontrato, temono che se fosse questo l'esito, cioè l'esito negativo, fra qualche anno si ripresenterebbe probabilmente un'altra ipotesi, solo che in quel caso CIVIBank comparirebbe, perché una banca sistemica ovviamente andrebbe a una fusione integrale e quindi con annullamento di marchi, di autonomia eccetera. Però è uno scenario che non ipotizziamo perché siamo sicuri che l'Opa avrà successo. Se aderisco all'Opa, quando avrò i soldi sul conto corrente, Calabro? I soldi sul conto corrente arrivano l'11 di maggio, quindi il periodo di adesione termina il 6 di maggio, l'11 di maggio arriva l'accredito del conto corrente, non è gravato da alcuna commissione e pertanto se uno ha 1.000 azioni prende 6.500 euro, per fare un esempio concreto, se poi ha i warrant, ha anche il meccanismo dei warrant che aggiunge una cifra ulteriore e quindi entro pochi giorni arrivano i contanti per poter fare qualsiasi cosa uno ritenga di fare con i soldi che sono stati accreditati. Presidente, se l'Opa fallisce, Sparcast venderà le sue azioni CIVIBank? Se l'Opa fallisse, cosa che noi non crediamo, riuniremo il Consiglio di Amministrazione per decidere il da farsi. Il nostro progetto è creare un gruppo nord-est, quindi partiamo dalla convinzione di riuscita dell'Opa. Il resto poi sarà decisione eventualmente del Consiglio di Amministrazione. Posso aderire solo all'Opa alle azioni e non a quelle sui warrant, Calabro? Teoricamente sì, perché le due offerte pubbliche d'acquisto sono due offerte separate. Sembrerebbe essere un comportamento illogico il fatto di vendere una cosa e tenersi l'altra perché coerenza vorrebbe che nella scelta razionale dell'investitore ci fosse la monetizzazione di entrambi gli strumenti finanziari. Però dal punto di vista tecnico questo sarebbe possibile. Presidente, spieghiamo agli azionisti che cosa accadrà anche in concreto l'Assemblea in cui due liste diverse si contrappongono. Anche qui ci sono due liste, lo ricordiamo, la vostra è quella presentata dal Consiglio. E la domanda sarebbe, non ho capito, cosa? Che cosa accadrà in concreto all'Assemblea in cui due liste diverse si contrappongono? Ma siccome viviamo per fortuna in uno Stato democratico, l'espressione del voto è libera anche in Assemblea e quindi si voteranno le liste che si candidano all'Assemblea. Noi siamo convinti di aver proposto una lista di forte connotazione professionale e inoltre espressione territoriale, siamo convinti che la lista possa avere il consenso della maggioranza dei votanti. Però è una competizione, fra virgolette, elettorale e quindi gli azionisti voteranno. Direttore, amministratore delegato Calabro, dopo l'OPA che cosa può succedere dal punto di vista del prezzo? L'abbiamo detto, dal punto di vista del prezzo si può fare una previsione. La previsione è quella che, come è successo per tutte le altre operazioni che hanno riguardato le offerte pubbliche d'acquisto, viene meno a un certo punto quello che viene chiamato dai tecnici la contendibilità. La contendibilità è quel fattore che finché non c'è un azionista di riferimento può creare degli appetiti di vari soggetti nel dire posso comprare questa banca per diventarne il proprietario. Nel momento in cui un'OPA va a buon fine e si crea l'esistenza di un soggetto di riferimento chiaro che solidamente ha in mano il controllo della banca, vengono meno quelle che potrebbero essere gli unici argomenti per immaginare che possa esserci un interesse a investire nella banca. Quindi purtroppo il rischio che si corre, la previsione che crediamo essere quella più probabile, è che il valore dell'azione scenda. Grazie allora, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, continuate a mandare le vostre domande, i vostri chiaramenti, insomma i vertici di Sparcaste sono qui proprio per rispondere come stanno facendo a qualsiasi questione. Ci fermiamo per un attimo, restate con noi. Ultima parte di Econo My FWG, fare i puntati sull'OPA lanciata da Sparcaste su CV Bank e insomma anche le domande dei telespettatori per i vertici di Sparcaste. Presidente, l'adesione di Friulia non è forse l'espressione di una volontà politica della Lega regionale di controllare un'istituzione percepita come legata alla sinistra regionale? Guardi, noi abbiamo improntato e perseguiamo un'operazione puramente aziendale, riteniamo che non sia assolutamente un'interessenza politica a cui noi operiamo per il territorio, un servizio efficiente bancario, un servizio per un circuito regionale. Chiaramente abbiamo notato che ci sono delle discussioni, delle contrapposizioni che noi non vogliamo commentare. Abbiamo accolto con grande piacere che il territorio supporta, capisce questa operazione, ma è un'operazione aziendale e non politica. Calabro, anche in caso di OPA si può parlare di minusvalenza? Nel caso di OPA si può parlare di minusvalenza nel momento in cui colui che ha le azioni e decide di portarle in OPA aveva le azioni a un prezzo di carico più elevato, in questo caso si realizza una minusvalenza, vuol dire che uno, la differenza di prezzo tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita rappresenta un vantaggio fiscale perché le minusvalenze che maturano possono essere successivamente utilizzate per compensare eventuali plusvalenze che uno ottiene da altri strumenti finanziari, quindi c'è un vantaggio fiscale anche se mi rendo conto che non è la soddisfazione più grande pensare che questo sia il motivo per aderire all'OPA. Eh sì, è vero. Lorenzo da Cividale, Presidente, se l'OPA va a buon fine e viene eletto il CDA proposto da Civibank, sarà un problema? Ma sa, ho detto già prima, l'elezione libera, escludo queste ipotesi perché se l'OPA andrà come siamo sicuri a buon fine, probabilmente anche il voto, questa espressione, questa volontà seguirà la lista, quindi riteniamo che la lista proposta verrà eletta. Sì, teoricamente sì, potrebbe essere anche per certi aspetti un'opportunità, magari non è detto proprio l'11 maggio o i giorni successivi, ma magari attendere un po' di tempo, perché se l'azionista fosse interessato a rientrare in possesso delle azioni potrebbe valutare quale potrà essere il momento migliore per farlo, magari aspettando qualche mese, perché è probabile che nel tempo l'azione possa subire questo effetto di calo nei propri prezzi e quindi se uno vuole essere opportunisticamente pronto poi a cogliere l'occasione lo potrà fare in un periodo successivo. Presidente, ci chiedono chi sono i vostri candidati e come li avete scelti? Ma i candidati sono noti, li abbiamo scelti per competenza e per, diciamo, espressione della società civile, soprattutto del Friuli, cinque candidati sono del Friuli proprio, con presidenza la Gervasio, dottoressa Gervasio, manager riconosciuta e molto capace. Abbiamo inoltre un'espressione veneta che è l'avvocato Bulgarelli di grande esperienza bancaria di origini friuliane, che sarà, diciamo, la thread d'union tra il Veneto e il Friuli, abbiamo tre tecnici apicali nostri che garantiranno il collegamento tra Friuli e Sparcassa. Comunque, su nove candidati, cinque sono di grande qualità ed espressione del Friuli, uno è Veneto con radici friulane e poi abbiamo appunto questi tre tecnici. Penso che sia una lista molto qualificata e abbiamo visto grande apprezzamento per questi nominativi. Calabro, con gli ultimi dati, insomma, avete superato il 40% totale delle azioni, siete convinti di potercela fare a breve? Credo di sì. Credo di sì anche perché abbiamo dei dati evidenti che ce lo confermano. Noi abbiamo analizzato quelle che sono state le azioni portate in OPA gradualmente nei vari giorni da quando l'OPA è partita e vediamo una crescita geometrica, quindi una crescita che fa pensare che questo trend continuerà e che ogni giorno potranno essere portate in OPA più azioni di quelle che sono state portate il giorno prima. Se questo si realizzerà come noi speriamo, immaginiamo che fra pochi giorni, e quindi a partire da oggi non serve ancora tanto tempo, per superare la quota 45%, cosa che rappresenterà un primo successo, qui potrà seguire un eventuale consolidamento qualora ci fossero ulteriori azionisti che consegneranno in OPA per magari farci superare anche quota 50%, che potrebbe essere anche un interessante obiettivo per noi. Presidente, Marco Daudine ci scrive, CiviBank è la prima banca italiana ad essersi trasformata in società benefit, seguita da altre imprese, Friulana e Venete. Cosa farà in proposito SparCasse? Allora io ritengo che non sia la prima società bancaria benefit perché ce ne sono anche dagli altri, comunque è un passo importante, SparCasse ha un azionariato diverso, SparCasse ha come socio una fondazione fortemente impegnata sul campo sociale, culturale e di formazione e quindi noi già viviamo praticamente un modello benefit molto positivo e penso che per noi sia quella la connotazione anche per il futuro. Calabro, un altro messaggio, io non venderei le mie azioni di CiviBank perché vorrei recuperare i soldi che ho investito e aspetterei la rivalutazione del valore delle azioni che voi annunciate. I dividendi che distribuirete ai soci CiviBank saranno identici in proporzione ovviamente a quelli che state distribuendo ai soci SparCasse? Innanzitutto noi non stiamo annunciando o promettendo rivalutazioni future dell'azione perché questo è impossibile, nessuno, chiunque possa essere la controllante di un'altra azienda può immaginare che questo sia un fattore che si possa realizzare. Nel caso specifico, ripeto un concetto già detto prima, nel caso specifico purtroppo anche una buona gestione di CiviBank, magari anche accompagnata da una buona politica di dividendi sostenibile perché ricordiamoci che nel momento in cui si paga un dividendo vuol dire che sono stati realizzati degli utili e la quota di dividendo deve essere una quota parte di questi utili e deve tener conto anche che se ci sono delle circostanze straordinarie come quelle che sono successe negli ultimi due anni, le autorità di vigilanza hanno spesso anche dato dei limiti alla distribuzione di dividendi. Quindi dividendi sarà quello che sarà possibile fare a secondo dell'andamento economico di CiviBank. Però, ripeto, non è immaginabile che anche di fronte a una buona gestione di CiviBank ci possa essere un riflesso positivo sul prezzo. Purtroppo il prezzo è determinato dal gioco domanda-offerta e se non ci saranno acquirenti interessati a comprare le azioni CiviBank in futuro, ed è probabile che questo succeda dopo l'OPA, è molto più probabile che indipendentemente dall'andamento economico di CiviBank il prezzo sia destinato a scendere. Presidente, ha generato qualche polemica da parte dell'attuale vertice di CiviBank, la vostra affermazione secondo la quale CiviBank da sola sul mercato rischierebbe molto. Ecco, qual è il vostro pensiero su questo punto? Ma basta vedere quello che è successo nel mondo bancario. Le popolari che si sono trasformate in S.P.A. oggi mancano di un azionariato di riferimento, quindi non c'è una governance garantita. Sono molto volatili nella composizione appunto di azionariato, il che favorisce dei right, delle scalate, delle OPA, anche ostili in modo ostili negativo nel senso di incorporazioni e acquisizioni complete. Quindi la banca popolare che non ha un azionariato, uno zoccolo duro, rischia di essere acquisita e di sparire. Questa non è solo la nostra convinzione, ma è quello che sta succedendo. Basta vedere quello che è successo alle banche popolari negli ultimi anni, a parte i default che ci sono stati per altri motivi. Però la storia recente insegna le scalate alle banche popolari con incorporazioni complete. Noi vogliamo un gruppo salvaguardando CiviBank e la sua autonomia. Attenzione alta anche da parte dei dipendenti. Simone Dattolmezzo ci scrive quanti esuberi e licenziamenti prevedete in CiviBank? Noi non prevediamo né esuberi né licenziamenti. Noi prevediamo che finita l'operazione di acquisto ci si siederà al tavolo col management di CiviBank, si farà insieme un piano industriale, si farà un piano industriale che beneficerà anche dell'ascolto di chi il Friuli Venezia Giulia o i territori in cui noi non conosciamo potrà aiutarci a comprendere quali sono le potenzialità di sviluppo. In quell'occasione si valuterà per quello che riguarda la popolazione di Sparcasse, quindi i dipendenti di Sparcasse e i dipendenti di CiviBank, l'eventuale possibilità di accompagnare coloro che hanno più di 60 anni verso un piano di incentivazione all'esodo, che vuol dire dei prepensionamenti pagati, che sono offerte che vengono rivolte ad alcune categorie di persone che possono volontariamente poi decidere se aderire o meno. Quindi l'unica possibile operazione sarà un'operazione socialmente responsabile, ovvero ci si farà carico dei costi che normalmente questi piani comportano in un'ottica di generare dall'eventuale prepensionamento di alcune persone maggiore efficienza del nuovo gruppo che si viene a creare. Allora siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di cose, Presidente, velocemente Sparcasse non è esposto agli stessi rischi di acquisizione di tutte le altre banche medio-piccole italiane? Noi abbiamo un socio di riferimento molto forte, quindi il rischio è minore, ma anche questa operazione di gruppo è nel senso di garantirci, di consolidarci di più. La Sparcasse sta andando molto bene, quindi possono esserci degli interessi, però abbiamo dei presupposti diversi che CiviBank, come detto, azionista forte e questa operazione di gruppo che garantisce anche noi. Calabrop, siamo proprio alle battute finali, tecnicamente come funziona? Quali sono i passaggi tecnici da compiere? I passaggi tecnici sono molto semplici, nel momento in cui una persona matura la convinzione che quanto da noi proposto sia un'operazione di interesse, non deve fare altro che telefonare al proprio gestore della banca, della filiale presso la quale detiene le azioni, chiedere di fissare un appuntamento, nel momento in cui Civali si deve dichiarare di voler fare le cose che uno ha maturato di voler fare, che potrebbero essere la consegna delle azioni in OPA, la consegna dei warrant in OPA e da non dimenticare anche la partecipazione all'assemblea dei warrant senza la quale si rischierebbe di non poter realizzare l'offerta pubblica di acquisto sui warrant. Proprio last minute, ultimissimo messaggio Presidente, ci saranno prospettive di carriera in Sparcasse per qualche attuale dipendente di Civibank, ci chiede Beniamino. Ci saranno possibilità per tutti, come detto ci saranno possibilità in Civibank e possibilità in Sparcasse, l'importante è collaborare, sviluppare le sinergie e crescere insieme. Grazie, i messaggi che sono arrivati sono veramente tanti, non siamo forse riusciti a leggerli tutti ma crediamo di aver insomma ben spiegato, lo hanno fatto i vertici di Sparcasse, insomma per aderire, ma insomma tireremo le somme a breve. Grazie al Presidente Gerhard Brandstetter, grazie all'amministratore delegato Nicola Calabro per essere stati con noi oggi. Grazie. E grazie anche alla regia di Simone Caramaschi e di Gian Domenico Ricci. Finisce qui questa puntata di Economia e FWG. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.